Sono due presunti case di mala sanità in provincia di Ragusa, al maggiore di Modica muore Maria Occhivin di 56 anni di Pozzallo, sul cui corpo domani sarà eseguita l'autopsia. All'Arezzo di Ragusa Ible invece muore Luigi Annino, modicano di 65 anni. Operazione antidroga in due distinte operazioni di polizia e carabiniera a Santa Croce Camerina e a Comito. I militari a Comito hanno arrestato un 19enne, mentre la squadra mobile di Ragusa Santa Croce Camerina ha arrestato un tunisino. Controlli a tappeto per chi non osserva le regole sono state disciplinate, infatti, gli orari di vendita e somministrazione degli accolici e l'utilizzo delle fonti di emissione sonora in un vertice in prefettura a Ragusa. La Movida 2016, dunque, è alle porte. Conferenza stampa questa mattina al Comune di Ragusa per presentare la 17esima edizione del Torneo Internazionale delle Forze dell'Ordine. La manifestazione si svolgerà per la prima volta in Italia dal 19 al 24 giugno prossimo. Buonasera e bentrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione su video mediterraneo. Purtroppo in apertura parliamo ancora di presunti casi di mala sanità in provincia di Ragusa. Una donna istancabile e piena di vita, così la ricorda la titolare della sala trattenimenti dove lavorava Maria Occhi Pinti. La 56enne pozzellese è deceduta ieri intorno alle 14 sull'ambulanza mentre stava per essere trasportata in ospedale. Domani sarà conferito l'incarico al medico legale per l'autopsia, mentre un altro caso di presunta mala sanità si è registrato all'ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa, Ibla. Tutti i dettagli da Viviana Sammito. Maria, sei stata una colonna portante per la tua e per la nostra famiglia e hai lasciato una grande eredità, un lavoro fatto di dedizione ai clienti e impegno per i tuoi figli. Così la ricordano i titolari della storica sala trattenimenti a Marina di Modic, Oasi dei Re, dove ha lavorato per 17 anni Maria Occhi Pinti. La donna morta ieri intorno alle 14, mentre con l'ambulanza stava per essere trasportata all'ospedale maggiore di Modic, da dove la sera prima era stata dimessa. Secondo i medici era una colica renale. Solo analisi, poi è tornata a casa per arrivare morta al nosocome il giorno dopo. Non sarà semplice rassegnarsi ad una così grande perdita, scrivono ancora, ma possiamo solo pregare affinché gli uomini ti diano giustizia e di una pace. Un abbraccio fortissimo e carico di amore va alla tua famiglia, per la quale non ti sei mai risparmiata. Ti saremo sempre grati e ti ringraziamo per le innumerevoli ore di lavoro che accanto alla nostra famiglia e al nostro staff hai dedicato ad un'azienda che certamente ormai aveva anche il tuo sguardo gentile, ma ha determinato la tua energia e la tua amorevolezza. Com'è morta Maria? Lei che aveva lavorato fino a domenica sera ed era in buono stato di salute. Solo lo scorso anno aveva subito un intervento per calcoli alla colecisti. I medici del PTA di Pozzallo, dove la donna era andata lunedì sera, le avevano consigliato di farsi visitare al pronto soccorso dall'ospedale maggiore di Modica, dove sta dimessa dopo alcune analisi intorno alla mezzanotte di lunedì. Mario Chipinte aveva capito che le sue condizioni si stavano aggravando e aveva chiamato l'ambulanza ma l'ospedale è arrivata a cadavere. E ancora ci si chiede perché i medici non hanno sottoposto la signora a una radiografia, un'attacca all'addome, considerati i dolori lancinanti. Lei non è arrivata viva in ospedale, invece il modicano Roberto Canata qualche mese fa non era arrivato vivo neanche in sala operatoria, era già troppo tardi. Però era stato dimesso in due giorni, tre volte. Poi i medici si erano accorti che era necessario fare un'attacca con la quale avevano visto l'occlusione intestinale. Prima, secondo i medici, Roberto Canata aveva un virus intestinale. Un altro e terzo presunto caso di malassanità si è registrato invece mercoledì scorso. Luigi Annino, 65 anni, doveva sottoporsi a un controllo al cuore. Da reparto di cardiologia di Modica è stato trasferito a Ragusa, al Maria Paterno Arezzo, dove però non hanno ritenuto fare l'esame. Il signore Annino, dimesso, è morto giovedì alle 8. Il 118 è arrivato a casa con il medico che ha constatato il decesso. La famiglia aveva chiamato l'Agenzia di Onoranze Funi, pronta per le segui già sabato mattina, ma a valore di pomeriggio la salma è stata sottoposta a sequestro dall'autorità giudiziaria. Il corpo deve essere sottoposto anche all'autopsia. Nel frattempo la famiglia ha deciso di far affiggere l'ecrologio con la scritta la famiglia Annino comunica che per motivi fuori della loro volontà i funerali del loro caro congiunto verranno celebrati a data da destinarsi. Annino e la moglie si erano trasferiti a Modica, città natale della coniuge, dopo aver vissuto a Cologna Monzese. C'è ancora la cronaca, due arresti per droga in due giorni, in due operazioni distinte di polizie e carabinieri. In manette un tunisino a Santa Croce Camerina e un comisano sorpreso con la droga in casa sebbene fosse agli arresti domiciliari. Un tunisino di 40 anni a Med Salmane fingeva di passeggiare con il cane nel centro di Santa Croce Camerina, ma nel frattempo in realtà contattava e veniva contattato dai clienti per la vendita della droga. Nel suo atteggiamento sospetto si sono accorti i poliziotti del commissariato di Vittoria e della squadra mobile che, durante un servizio antidroga, hanno effettuato un blitz nella sua abitazione. Il tunisino non ha opposto resistenza e dopo una breve ricerca è stata trovata in diversi punti della casa la sostanza stupefacente, oltre 60 grammi di hashish. Altra droga è stata rinvenuta all'interno di una giacca, nelle tacche dei pantaloni, nel cesto dei pali da lavare e ancora in altri indumenti. Il quarantenne è stato condotto in carcere con l'accusa di detenzioni fine dello spaccio e di sostanze stupefacenti. In questo caso è stata preziosa la collaborazione nei cittadini. Droga in casa è stata rinvenuta nella disponibilità di un comisano di 19 anni, Gianluca Zago, che era agli arresti domiciliari dallo scorso 2 giugno, sempre a causa della droga. Nonostante la misura cautelare, il giovane non aveva perso il vizietto. I carabinieri della stazione di Comiso ieri hanno dunque portato in carcere Zago, che ha smesso di beneficiare del regime dei domiciliari, così come disposto dal GIP del Tribunale di Ragusa Claudio Maggioni. Zago era stato arrestato insieme con un altro giovane e nel corso della perquisizione personale domiciliare era stato trovato in possesso di oltre 40 grammi di marijuana suddivisi in ben 70 dosi e materiale per il confezionamento. Droga che Zago continuava a possedere a casa sua, sicuramente per spacciarla, anche se ristretto ai domiciliari. Truffa su internet. I carabinieri di Pozzallo hanno arrestato un uomo di 45 anni che aveva intascato circa 300 euro senza consegnare quanto dovuto. Adesso deve stare 10 mesi in carcere. Aveva messo in vendita su internet i biglietti di un concerto che erano andati a ruba e quindi introvabili. Un uomo di Ancona aveva pensato di fare l'affare e invece ha scoperto di essere stato truffato. Era il 2009. Adesso il responsabile deve scontare una pena di 10 mesi di reclusione in carcere a Ragusa. E un pozzallese di 46 anni, Adriano Scollo, raggiunto oggi da un'ordinanza di custodi a cautelare in carcere messa dalla procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona. L'uomo aveva intascato circa 300 euro per la vendita dei biglietti ma l'acquirente non li ha mai ricevuti. Pertanto la vittima aveva presentato l'acquarela. Il truffatore è stato condannato, portato in carcere e deve anche ottemperare al pagamento di una multa di 300 euro pari alla truffa consumata. A distanza di 7 anni il furbetto del web ha pensato di averla fatta franca ma la giustizia non si è dimenticato di lui. E la procura di Ancona non è stata neanche clemente per una truffa di 300 euro e è stata imposta la restrizione in carcere dove è sicuro che non li verrà messo a disposizione un PC. Ed un'azienda zootecnica nel territorio modicano è stata sequestrata dalla polizia locale per violazioni in materia ambientale. Una multa di 12.000 euro ai danni di un 59enne proprietario di un'azienda zootecnica nel territorio di Modica è stata combinata dalla polizia locale nel corso di servizi di controllo del territorio in sinergia con la sezione viabilità alla polizia giudiziaria e veterinari dell'ASP 7 di Ragusa. L'azienda, ereditata dal padre deceduto, è stata sequestrata mentre il titolare è stato deferito alla procura della Repubblica per reati attinenti alla violazione del testo unico in materia di ambiente. L'uomo ha presentato solo alcune delle autorizzazioni richieste dalla polizia locale. Da controlli più approfonditi è emerso che due vitelli si trovavano rinchiusi in un cortile adiacente e su pavimentazione in cemento mentre i liquami della vicina stalla ricadevano all'interno di un pozzo trivellato che confinava con una concimaia. Un'altra concimaia invece aveva il percolato che si infiltrava in un terreno dove erano coltivati ortaggi e con una distanza di circa 20 metri dal pozzo dell'acqua. L'uomo non è stato in grado di fornire alcuna certificazione in merito alle autorizzazioni per il pozzo e per la concimaia. La polizia locale dunque ha visionato tutti i fascicoli relativi all'azienda riscontrando violazioni alle norme tecniche imposte dalla regione Sicilia e in particolare non era stato comunicato al sindaco l'utilizzazione agronomica degli affluenti dell'allevamento. Il proprietario aveva effettuato lo stoccaggio dell'etame e dei liquami fuori dall'apposita vasca di raccolta. Dalle indagini è poi emerso che già nel 1993 il genio civile di Ragusa aveva comunicato all'ufficiale sanitario di Modica che i liquami ricadenti nel pozzo creavano pericolo di infiltrazioni nelle falde acquifere. Tra l'altro l'acqua del pozzo veniva utilizzata anche dai familiari per uso domestico ed irrigazione delle colture. è approdata in prefettura la protesta del movimento riscatto Sicilia che è deciso in questo modo di mobilitarsi con un sit-in davanti al palazzo di governo. La delegazione è stata poi ricevuta dal capo di gabinetto della prefettura per calendarizzare un incontro con il prefetto. Sentiamo. Questa crisi a noi che abbiamo una piccola attività una vendita del taglio di frutta e verdura ci ha messo in ginocchio. Prima riuscivamo anche a pagare quel piccolo debito che si era fatto per costruire una piccola azienda. Non siamo più riusciti e il nostro bene è stato venduto all'asta. La legge permette che venga acquistato a un prezzo bassissimo e quindi io nella mia situazione di famiglia anche numerosa avendo cinque figli mi ritrovo con i debiti e senza casa da qui a poco. Tagliegiati da una crisi lunga e gravissima molti produttori agricoli perdono tutti i loro beni in aste giudiziarie che sembrano favorire non tanto i creditori spesso quasi totalmente insoddisfatti dei loro averi ma mere operazioni di sciacallaggio. Rabbia, angoscia disperazione hanno animato la protesta promossa dal movimento riscatto Sicilia. Un sit-in di quattro ore stamane dinnanzi alla prefettura con la richiesta di un intervento urgente per porre fine ad un fenomeno non solo di vessazione massiccia di una categoria colpevole solo di essere stata travolta dalla crisi ma anche di allarme e di rischio per l'ordine pubblico. Noi siamo qui come vedete ci sono anche ragazzini e bambini noi siamo stanchi delle false promesse siamo qui per manifestare il nostro disagio naturalmente siamo una rappresentanza non possiamo essere tutti per motivi appunto di lavoro perché si stanno spaccando la schiena a casa e le donne cosa dobbiamo fare rimanere a casa a fare che cosa niente noi siamo qui a protestare a manifestare. noi abbiamo delle proposte che vorremmo fare al governo nazionale purtroppo ancora non si riesce a far insediare un tavolo di trattativa con il governo nazionale ecco il prefetto deve incidere principalmente su questo far istituire immediatamente un tavolo di trattativa per risolvere la crisi agricola che a nostro giudizio risolverebbe anche la crisi generale. C'era anche una delegazione ragusana capeggiata dal segretario generale della CGL di Ragusa Peppe Scifo alla manifestazione generale unitaria con FIMCISL che si è tenuta oggi a Palermo dove il concentramento in piazza Croci il corteo dei lavoratori ha raggiunto piazza Giuseppe Verdi dove sono intervenuti Ferdinando Uliano segretario nazionale della FIMCGL e Silvio Vicari coordinatore regionale Wilm Sicilia ha concluso il comizio Maurizio Randini segretario generale nazionale della FIMCGL alla base della protesta il rinnovo dei contratti collettivi e l'aumento del retribuzione e intanto è stata raggiunta l'intesa tra la regione e i sindacati sui consorsi di bonifica dunque è stato revocato lo sciopero dobbiamo liberare i consorsi di bonifica dal peso del passato sia dal punto di vista finanziario che gestionale si è registrata dunque una convergenza importante con i sindacati che rafforzerà il percorso di riforma che stiamo portando avanti e quanto dice l'assessore regionale all'agricoltura Antonello Cracolici che esprime anche soddisfazione dopo l'incontro con i sindacati che ha portato alla revoca dello sciopero regionale previsto per il prossimo 21 giugno e novità per i tributi a Modica le agevolazioni sono state esposte dall'assessore al bilancio del comune di Modica Enzo Giannone è fatto salvo l'aumento dei costi relativi alla gestione del servizio Tari anche quest'anno i tributi del comune di Modica detto Giannone non hanno subito aumenti rispetto all'anno precedente Imu bloccato all'8,6 per mille per quanto riguarda immobili diversi dalla prima casa la base imponibile è ridotta del 50% se l'immobile è concesso e incomodato gratuito a genitori o figli che lo utilizzano come abitazione principale il contratto deve essere registrato il comodante deve possedere un solo immobile in Italia e deve risiedere nel comune in cui ha concesso l'immobile incomodato per gli immobili locati a canone concordato l'aliquota è abbattuta del 25% sono queste alcune delle novità sui tributi del comune di Modica sforzano indifferente per l'assessore Giannone che chiarisce che i tributi comunali non subiscono alcun aumento nonostante il taglio e trasferimenti dello Stato tra le novità anche per gli immobili locati a canone concordato l'aliquota è abbattuta del 25% nella nota di Palazzo San Domenico viene evidenziato come le agevolazioni richiedono la presentazione della dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo novità anche per i terreni agricoli per questi è prevista l'esenzione vigente fino al 31 dicembre 2013 l'agevolazione può essere dunque sfruttata in aree montane o in collina delimitate esenti terreni agricoli utilizzati da coltivatori diretti o IAP per la Tasi l'aliquota rimane all'1,85 per mille nessuna tassa sarà pagata sugli immobili in cui risiede per la tassa dei rifiuti è prevista la possibilità di pagare il 60% della tassa rifiuti e fino a concorrenza di 250 euro per nuclei familiari dove è presente un disabile non autosufficiente bisogna tenere conto che i costi sono aumentati rispetto al 2015 dell'11% a motivo di contenziosi pregressi con la ditta che gestisce il servizio adesso parliamo del PRG di Ispica un importante provvedimento è stato portato a termine dal Consiglio Comunale che ne ha annullato la delibera Annullata la delibera consigliare numero 27 del 28 aprile del 2011 avente ad oggetto la rielaborazione parziale della revisione del piano regolatore generale ad Ispica a darne notizia e il sindaco Pierenzo Muraglie il primo cittadino sottolinea che era un impegno che l'amministrazione comunale aveva assunto con gli spicesi in campagna elettorale il Consiglio Comunale si è determinato ad annullare la delibera consigliare dopo che la stessa è stata impugnata innanzi al Tar Sicilia sezione staccata di Catania dopo il ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia e il ricorso per motivi aggiunti al Tar un atto di estrema importanza che l'amministrazione comunale dichiara il sindaco Pierenzo Muraglie ha adottato prendendo atto della ordinanza del Tar depositata il 22 di luglio del 2011 e dopo aver acquisito il parere generale pro veritate a firma del professore avvocato Giuseppe Berretta l'annullamento consentirà spiega il sindaco Muraglie di sbloccare altresì la paralisi che affligge il comparto edile perché verranno meno le misure di salvaguardia il Consiglio Comunale continua la nota a firma del sindaco Pierenzo Muraglie ha fatto chiarezza su un atto di estrema importanza e ha deliberato dimostrando di avere a cuore l'interesse della città e degli ispicesi soddisfazione è stata espressa anche per l'operato del Consiglio Comunale e nello specifico del suo presidente Roccuzzo da parte del sindaco di Ispica Pierenzo Muraglie Parliamo di Movida la disciplina degli orari di vendita e somministrazione degli alcolici e dell'utilizzo delle fonti di emissione sonora negli esercizi pubblici durante l'estate 2016 al centro del vertice di ieri mattina in prefettura a Ragusa sentiamo le emissioni sonore negli esercizi pubblici la regolamentazione degli orari di vendita e somministrazione delle bevande alcoliche al centro di un vertice ieri mattina in prefettura Ragusa convocato dal prefetto Maria Carmela Librizi per venire incontro alle esigenze e alla serenità dei residenti nelle frazioni balneari il prefetto ha invitato le amministrazioni locali ad adottare provvedimenti regolamentari che disciplinano gli orari relativi all'emissione e diffusione sonora negli esercizi pubblici saranno anche intensificati i controlli da parte delle forze dell'ordine d'intesa con il personale dell'ARPA disponendo la pianificazione di servizi congiunti da parte delle forze di polizia e locali del territorio con lo scopo di far osservare i provvedimenti adottati dalle amministrazioni per quanto riguarda poi le diffusioni sonore non devono essere eccessive nelle ore notturne evitando deroghe di orari rispetto alla regolamentazione generale prevista per tutti i comuni blei e per tutta la stagione estiva da che sono qui ho ricevuto tantissime segnalazioni tantissime lamentele da parte di cittadini che chiaramente ritengono sia eccessivo anche la disponibilità dei vari centri esercizi commerciali oltre orari consentiti quindi si tratta indubbiamente di conciliare quello che è il giusto divertimento estivo la possibilità chiaramente di suffruire di godere di quelli che sono spettacoli ed altri però anche con anche la possibilità per chi deve andare a lavorare l'indomani di poter riposare tranquillamente quindi indubbiamente dobbiamo insistere sugli orari e dobbiamo far sì che quegli orari che sono imposti siano rispettati un garage al pianotera di un condominio in Viale Europa Ragusa è stato trasformato in un'abitazione con servizi igienici senza alcuna autorizzazione sentiamo l'apparato di vigilanza sul rispetto delle norme che disciplinano la vita di una comunità spesso non riesce ad essere rapido ed anche la repressione di abusi e violazioni attraverso il ripristino di una situazione conforme ai diritti e ai doveri sanciti dalle norme è talmente lenta da frustrare la domanda di giustizia sono i sentimenti avvertiti secondo la loro denuncia che ci è giunta in redazione dai condomini di uno stabile in Viale Europa Ragusa allibiti e impotenti dinanzi ai comportamenti e agli abusi di un inquilino il quale secondo quanto da loro segnalato al prefetto al questore al sindaco e alla polizia municipale ha adibito arbitrariamente ad abitazione con servizi igienici sui locali ubicati a piano terra e da venti invece destinazione d'uso di cantina e garage secondo i condomini non si tratta di un abuso privo di conseguenze per l'intero edificio danneggiato dai lavori di trasformazione del prospetto in cui è stata sostituita la saracinesca da una porta in vetro prospetto che peraltro era stato di recente restaurato e ristrutturato con notevole dispendio di costi da parte degli inquilini l'abuso comprende anche la realizzazione di una tettoia rimovibile in legno che deturpa gravemente l'aspetto estetico dell'edificio e il suo equilibrio architettonico oggi è scaduto il termine entro il quale l'autore di questi abusi avrebbe dovuto rimuoverli e ripristinare la situazione preesistente ma la diffida della polizia urbana di Ragusa non ha avuto esito e da domani dovrebbero scattare le misure repressive ma l'aspetto più grave del problema lamentano i condomini è non solo la situazione di impotenza ma anche quella di paura per le possibili ritorsioni ad opera della persona denunciata il cui comportamento anche al di là delle stesse responsabilità a lui contestabili in passato è stata sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio appare incontrollabile e quindi fonte di pericolo nessuno vuole inveire e questo è il sentimento dei condomini contro una persona al di là della sua cosciente responsabilità ma le autorità preposte amministrative e giudiziarie dovrebbero essere capaci di non scaricare tensioni paure e pericoli su una tranquilla comunità di cittadini che rispettano le norme e ne chiedono altrettanto rispetto ci fermiamo adesso c'è la pubblicità tra poco bentornati in studio e legge il dopo di noi il provvedimento pone attenzione alle persone diversamente abili che restano senza genitori soddisfazione è stata espressa dal mondo politico per un atto che ancora mancava ed era necessario il dopo di noi e legge il provvedimento si occupa di assistenza cura e protezione nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave si definiscono le prestazioni assistenziali da garantire in tutto il territorio nazionale si istituisce il fondo per l'assistenza e le finalità si prevede la detraibilità delle spese per polizie assicurative il testo regola l'istituzione di trust vincoli di destinazione fondi speciali e prevede agevolazioni tributarie con 312 voti favorevoli 64 contrari e 26 astenuti arriva il via libera definitivo dell'aula della camera al dopo di noi la proposta di legge che contiene le nuove norme in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare il provvedimento era molto atteso e destinato ai disabili gravi rimasti orfani il ruolo insostituibile della famiglia e dell'autonomia attraverso questa legge sarà tutelato così com'è sottolinea Paola Binetti di area popolare tra i primi proponenti del disegno di legge riguardo alle agevolazioni fiscali per la formazione di trust destinati a disabili gravi durante l'iter parlamentare è stato esteso anche alla costituzione di vincoli di destinazione e di fondi speciali questi strumenti saranno esenti dall'imposta di successione e donazione inoltre è stata stabilita la detraibilità delle spese sostenute per le polizie assicurative per la tutela delle persone con disabilità grave con l'incremento da 530 a 750 euro della detraibilità dei premi per assicurazione versati per rischi di morte sull'argomento il presidente della commissione affari sociali Mario Marazziti ha dichiarato che l'estensione delle agevolazioni fiscali fondi speciali è una soluzione economica 90 milioni per il 2016 circa 38 milioni per il 2017 e 56 milioni annui a partire dal 2018 questa è una legge mette al centro le persone con disabilità grave risponde così ai bisogni e alle preoccupazioni di tante famiglie italiane segna una svolta culturale nel nostro paese conclude Marazziti presentata questa mattina al comune di Ragusa la diciassettesima edizione del torneo internazionale delle forze dell'ordine che si svolgerà per la prima volta in Italia dal 19 al 24 giugno prossimi vediamo 16 nazioni europee invieranno i propri atleti componenti le forze dell'ordine per partecipare alla diciassettesima edizione dell'international football che si svolgerà per la prima volta in Italia dal 19 al 24 giugno prossimi il programma è stato presentato stamani nel corso di un incontro con i giornalisti che si è svolto al comune di Ragusa la città capoluogo dunque ospiterà l'importante competizione che vedrà circa 800 tra atleti e accompagnatori provenire da Austria Belgio Canada Finlandia Francia Germania Gran Bretagna Italia Lettonia Lituania Norvegia Olanda Portogallo Romania Svizzera e Ungheria l'Europa dello sport si ritrova dunque nel sud-est siciliano per una competizione sportiva interamente dedicata al calcio a sette ad affrontarsi squadre maschili femminili e miste si comincia il 21 giugno con l'inaugurazione in Piazza Libertà che si trasformerà in un teatro all'aperto per accogliere in serata l'atteso concerto dedicato ai Pink Floyd la festa inizierà già la mattina con le attività di fitness poi dalle 19.30 alle 21.30 spazio al flamenco la danza del ventre e l'esibizione canora del coro Maria Leventre di Ragusa giorno 22 l'esibizione della fanfara dei bersaglieri e degli sbandieratori di Noto e di Floridia che accompagneranno la sfilata delle nazioni partecipanti all'international football lungo le vie del centro storico le giornate clou saranno essenzialmente due che vedono anche un coinvolgimento della città di Ragusa il 21 e il 22 giugno con due grandi manifestazioni che si svolgeranno a Piazza Libertà poi invece nelle restanti giornate ci sarà il tradizionale torneo che si svolgerà all'hotel Atena e quindi ecco là ci saranno questi momenti poi di svago e di confronto ribadisco tra le diverse forze di polizia non ci sono aggiornamenti termina qui questa edizione di MTG grazie come sempre per averci seguito vi auguro una buona serata arrivederci a domani